Stavo vedendo che c'è una giuria nuova stasera. Sì, è una giuria popolare, eh? È la giuria della giuria. Questa è la giuria della giuria. Voglio dire, ha capito? Ci siamo, Sandro. Marco Petronzi e Claudio. E ogni settimana noi faremo da supervisori a quello che deciderete voi. Ecco, questa mi sembra un'ottima idea, Sandro. Cosa dici? Alla grande. Per vedere se siamo d'accordo o se invece... E se non siamo d'accordo? Siamo d'accordo lo stesso. Allora... Comunque, volevo intanto brevemente riallacciarmi al discorso di prima. Perdonami se ho fatto, diciamo, quella uscita su Sanremo, ma ho dovuto farla perché quando ho sentito la tua canzone, siccome conosco molto bene queste realtà degli scambi, ah, ti porto a Sanremo se mi dai questo, ma di canzoni proprio cosa canti, cosa non canti, niente frega niente. Allora, quando ho sentito la tua canzone, mi sono sentito in dovere di dire quello che ho detto. E ribadisco che ci sto mettendo un grande impegno, non so come farò in qualche maniera, per cercare veramente di fare una manifestazione dove i cantanti come te e tantissimi altri colleghi che hanno dato tantissimo alla musica italiana, possono ancora fare sentire le loro canzoni che io trovo molto molto belle. Questo era il discorso di Patel. Allora, detto questo, Vanessa Pretola, la busta, eccola qui che arriva. Bene. Allora, la premessa è quella di prima. I ragazzi sicuramente sono tutti molto bravi. Quello che abbiamo detto prima ce lo siamo ridetti, rivedendo il video, quindi qualcuno probabilmente poteva forse cantare un'altra canzone che poteva rendere di più. Premetto anche il fatto che, come dico ogni volta, ci potrebbero, e come è già stato dimostrato, essere dei ripescati. Quindi chi questa sera è, diciamo, momentaneamente escluso, non si deve disperare perché potrebbe anche essere ripescato. Allora, diamo lettura del verdetto. Ci sono apposta. Guarda, me l'ho aspettato. Grazie, molto gentile. Allora, accedono alla fase successiva. Pizzichini Cristian. Passetto avanti. Aurora Marinello. Vieni Aurora, dove sei? Passetto. E Alice Scelpo. Questo è stato il vero.